I leader migliori sono quelli che quando se ne vanno lasciano dietro di loro un gruppo di persone che li supera di gran lunga. Oggi l'attività del presidente Mujica è stata molto intensa e danno. Arrivato a questo punto non ho più bisogno del denaro, per niente. Per vivere non mi serve più di quello che ho. Non avremmo mai immaginato che Pepe sarebbe potuto diventare presidente. Molto di ciò che ti dico viene da quegli anni di isolamento in carcere. Non sarei quello che sono oggi, sarei più futile, più frivolo, più superficiale. La cultura è fatta dai valori che noi applichiamo nella vita quotidiana. Questo fa parte della costruzione di una società migliore. In politica bisogna scegliere persone dal cuore grande e dal portafogli piccolo. Il membro più fedele del mio governo è il mio cane. È curioso, Costurizza. A volte il male è un bene. Altre volte, al contrario, il bene è un male. Io non me ne vado! Sono arrivato! Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!